Ci sarà un negoziato, e ci sarà un negoziato fortemente se noi siamo parte del bando. Serve lo stadio, serve un aiuto dalla politica, servono tempi rapidi. Rocco Commisso è tornato a ribadire il suo concetto americano per la realizzazione del nuovo impianto della Fiorentina. Lo ha fatto dagli studi di Lady Radio, dove ha sottolineato per l'ennesima volta la necessità di investire per far crescere la società gigliata, chiamando in causa ancora Palazzo Vecchio dopo l'incontro di martedì pomeriggio con il sindaco Dario Nardella. Io sono disposto a fare un investimento. Rocco ha detto che i soldi non importano. Sì, i soldi non importano. Io ho i soldi di investire, però i soldi per la Fiorentina devono essere un ritorno con quei soldi. Io lascerò lo stadio qui, io lascerò il centro sportivo. Nel centro sportivo i ricavi arriveranno se la differenza è uno, due, tre, bernardeschi, chiesa, ragazzi così. E si pagherà da soldi. Nel stadio è differente. Per il stadio deve portare ricavi, incrementare ricavi che ho mostrato l'altro giorno, così possiamo fare come le miglie squadre qui in Italia o come le miglie squadre, i top 20 dell'Europa. Nel frattempo, dalla giunta di Palazzo Vecchio è arrivato il via libera definitivo alla variante per la realizzazione del nuovo stadio e del nuovo mercato ortifrutticolo nell'area Merca Firannovoli, che ora passa all'esame del Consiglio Comunale. La variante specifica quattro punti, l'aspetto patrimoniale dello stadio, la modalità attuativa del comparto nord, l'attribuzione della capacità edificatoria e delle relative destinazioni d'uso a ciascun comparto e le condizioni di accessibilità dell'area. Tutti aspetti che precisano il contenuto della previsione vigente, senza alterarlo né in termini di localizzazione né di dimensioni.